Come state? Stiamo bene ma siamo provati. Parole che esprimono tutta la stanchezza psicofisica che Giuseppe, Moneti e la sua famiglia stanno provando dopo questi anni e ultimi mesi in cui la sorte sembra avergli voltato le spalle. C'è però una luce in fondo al tunnel. Ci sono infatti importanti sviluppi sulla nuova abitazione che accoglierà i Moneti, una conseguenza inevitabile dopo la confisca della loro casa in via Persoria e dopo l'ennesima scadenza per lo sgombero imposto dal giudice, fissato questa volta per l'11 aprile. Dopo mesi di ricerche, la famiglia del giovane Alessandro, 26enne rimasto in sedia a rotelle dopo un incidente in scooter, ha firmato un contratto d'affitto dal 1 giugno in un appartamento a Loreto di Pesaro. Padre, madre e i due figli hanno iniziato intanto a inscatolare alcuni beni personali in vista del trasferimento nella nuova casa, che però non sarà agibile da subito vista la presenza dell'attuale residente e la mancanza di alcuni lavori indispensabili per far fronte alle difficoltà del giovane agricoltore invalido. Adesso speriamo di poter, in questi dieci giorni che ci rimangono, completare lo sbroglio di questo appartamento e chiudere finalmente questa parentesi che non è stata tutt'altro che piacevole, insomma. Abbiamo già smontato alcuni mobili, abbiamo impacchettato tutte le cose che non utilizzavamo nel quotidiano, però c'è ancora tanto da fare, anche perché la casa dove dovevamo andare non è libera. C'è questa signora dentro che ha più di 80 anni, che si è resa disponibile a darci la sua casa, però sta facendo fatica a trovare per lei una sistemazione. Adesso sembra che si sposti da dei parenti a Roma per un periodo e quindi a noi ci dà il modo di fare i lavori in maniera che riusciamo a entrare il prima possibile. La nuova giudicataria dell'immobile, che fino a poco tempo fa era di proprietà dei moneti, ha chiesto alla stessa famiglia un risarcimento di 7.500 euro per le spese legali ed affitto che lei stessa ha dovuto sostenere in un'altra abitazione nel frattempo che il suo nuovo appartamento venisse liberato. Ulteriori ingenti spese che però la famiglia moneti non riesce a supportare. Ha chiesto per potersi fare stare un risarcimento, adesso noi non siamo in gradi di onorare una cosa del genere, non possiamo prendere un impegno così perché economicamente purtroppo come abbiamo più volte ribadito non abbiamo questa possibilità e quindi noi adesso cercheremo di spostarci il prima possibile e liberargli di questo appartamento il prima possibile. L'affitto del nuovo appartamento sarà sostenuto interamente dal comune di Pesaro che attraverso un contratto d'assistenza ha preso a carico le spese mensili di 800 euro per i primi sei mesi, eventualmente rinnovabili. Una situazione complessa che ha inevitabilmente rallentato il trattamento fisioterapico di Alessandro che quotidianamente da circa nove anni a questa parte avviene in un centro privato di macerata per un costo mensile tra i 3 e i 4 mila euro. Una frenata c'è stata anche per la continuazione del sogno che Alessandro e papà Giuseppe coltivano insieme, quello di gestire e lavorare un appezzamento di terreno agricolo. Un'azienda padre figlio che mesi fa era salita alla cronaca per una raccolta fondi per poter dare in mano ad Alessandro un trattore che potesse guidare nonostante le difficoltà motorie. Una campagna solidale che sta proseguendo a passo spedito. Col trattore la raccolta fondi sta andando avanti, c'è l'associazione Vanda di Ferdinando che sta continuando a raccogliere per quello che può, ma soprattutto c'è l'intervento dell'onorevole Carloni, Mirko, che quindi ci sta interessando ad alti livelli, ci sta aiutando in tutti i modi. Siamo fiduciosi che per l'autunno abbiamo il trattore. Uno spiraglio di luce si intravede anche dalla riapertura del procedimento legato sull'incidente che nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2014 ha per sempre cambiato la vita di Alessandro e dei suoi cari. Il 18 maggio sarà ascoltato davanti al giudice il testimone che pare ricordarsi di alcuni dettagli sullo schianto provocato dal pirata della strada, fuggito senza prestare soccorso. Cerchiamo di non illudersi, però sicuramente è una buona notizia che hanno deciso di riaprirlo e che ci sono delle novità. Quindi poi vediamo anche come si sviluppa il tutto. Un sorriso di speranza che rimane stampato sul volto del giovane anche quando lui stesso prova a immaginare come sarà Alessandro tra dieci anni. Alessandro tra dieci anni spero in piedi, la terapia dà i suoi frutti, la vicenda del trattore tra dieci anni molto prima, spero già di guidarlo, magari anche senza ausili, e la vicenda della casa che potessimo avere un'abitazione nostra, magari di poterla comprare di proprietà e stare un attimino tranquilli.